La nostra attenzione, fortunatamente, nelle prossime settimane si sposterà dall'emergenza Covid alle questioni economico-sociali e ai temi dello sviluppo e del lavoro. Sono le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel suo consueto aggiornamento del venerdì. Io credo che sempre meno dovremo parlare di Covid nelle prossime settimane e dovremo spostare anche la nostra attenzione sempre di più sulle questioni economico-sociali e sui temi dello sviluppo e del lavoro. Il mese di ottobre sarà decisivo, prosegue, per avere un quadro rassicurante più stabile. Per un pieno ritorno alla normalità dobbiamo fare comunque uno sforzo ulteriore sulle vaccinazioni. Ancora in questa settimana registriamo dati tranquillizzanti per quanto riguarda il Covid nel nostro paese. Dovremo aspettare il mese di ottobre, sia perché avremo le scuole aperte già da un mese e mezzo, sia perché dobbiamo vedere quello che succede dopo il 15 ottobre, le scadenze del Green Pass. Per quello che ci riguarda in Campania abbiamo una situazione abbastanza tranquilla. non mi piace il dato che registriamo per le seconde dosi. In Campania abbiamo fatto 7.750.000 somministrazioni di vaccino su una popolazione di circa 6 milioni e gli abitanti, ma le seconde dosi, i cittadini immunizzati, sono solo 3.600.000. Il nostro impegno intanto è massimo su tutti i fronti. Abbiamo fatto di tutto per garantire una ripartenza in tranquillità della scuola, ribadisce De Luca. Adesso dobbiamo partire con la terza dose per le vaccinazioni anti-Covid. In Campania faremo contemporaneamente la terza dose alle persone fragili, agli anziani e al personale sanitario. Io continuo ad invitare i nostri concittadini a fare uno sforzo in più. La Regione Campania è la prima Regione d'Italia per il numero di mezzi pubblici messi a disposizione in occasione dell'apertura dell'anno scolastico. 950 mezzi in più a fronte dei 644 della Lombardia e dei 202 della Regione Lazio. Abbiamo fatto di tutto per garantire che le scuole si aprissero in condizioni di tranquillità. Personale scolastico vaccinato al 100%. Adesso dobbiamo partire con la terza dose, sulla base ovviamente delle scadenze temporali. In Campania faremo contemporaneamente la terza dose alle persone fragili, gli immunodepressi, ma anche al personale sanitario tutto. Non seguiremo una scala temporale. Si farà contemporaneamente tutto. Alla prossima Grazie per la visione!